Padiglione 22, stand di Motor Media TV, tra i tanti piloti che ci vengono costantemente a trovare, quest'oggi abbiamo anche colui che ha guidato una delle vetture esposte all'interno del nostro stand. Parliamo ovviamente della vettura del Kasser Racing, la Ferrari F430 GT Cup, lui è Roberto Deleguanti, benvenuto Roberto, lui ha corso quest'anno nell'International GT Sprint, era un po' il debutto in generale in pista dopo aver corso tanto tempo sia in moto che nei rally, raccontaci un pochino come è andata questa prima esperienza in pista. Devo dire molto bene, grazie al fatto che comunque avevo già avuto delle esperienze in pista con le moto, quindi ci sono delle similitudini in realtà, quindi non partivo proprio da zero, non era proprio il primo anno di gara, insomma, qualcosa in comune con la pista comunque c'era, quindi le difficoltà che ci possono essere con queste macchine, con tutti questi cavalli, insomma, sono state assorbite bene da quel po' di esperienza che avevo fatto in moto. Sì, quest'anno prima esperienza in pista, però volevo fare una premessa, grazie alla nostra Bluestar, creata in famiglia da me, mia moglie e mio fratello. Prima esperienza di gestione sponsor e quindi pubblicità dei nostri marchi e questo mi ha dato la possibilità di poter fare e scegliere più che altro macchine, team, cosa a me prima impossibile, visto che queste cose le gestivano sempre per me gli altri e quindi anche quando le cose magari andavano male, eri costretto a finire l'anno in quel modo, invece no, quest'anno... Sei più autonomo. Siamo più autonomi e si è visto perché abbiamo fatto la prima esperienza con Lamborghini che devo dire è andata anche bene a Monza. Una volta conosciuto un po' tutto l'ambiente, in questo caso della Superstar, bellissimo campionato, ho avuto modo di individuare il Team Kessel che è stato, diciamo, un mio obiettivo poi riuscito e niente, quindi devo dire alla fine è andata bene per tanti motivi, sponsor contenti e delle gare finite innanzitutto, iniziate e finiti perché io arrivavo da una lunga serie di ritiri con i rally, con le macchine da rally, adesso non faccio nomi, va bene, invece partire e finire tutte le gare è già stato un risultato, poi in alcuni casi ci sono stati anche dei piazzamenti, vedi la gara di Spa in Belgio e bene, quindi siamo qua, possiamo raccontare tutto, è andato tutto bene, gli sponsor contenti mi rinnovano per l'anno prossimo e quindi credo che ripeteremo di nuovo l'esperienza di quest'anno, campionato Superstar, presumo sempre con Kessel, però adesso siamo ancora in fase di trattativa, sì, siamo in fase di trattativa, quindi siamo aperti anche comunque ad altre eventuali proposte, diciamo, ecco, grazie al fatto che appunto per la prima volta, devo dire, riusciamo a muoverci un po' come vogliamo. Certo, sicuramente questa esperienza ovviamente è stata la prima a quattro ruote, hai dovuto affrontare, hai fatto l'esempio di Spa, anche circuiti che in realtà non avevi mai visto neanche in moto, quindi comunque sicuramente rimanere in quel campionato potrebbe aiutare a gestire al meglio proprio l'esperienza fatta nel 2011. Sì, infatti, quest'anno partirei con delle difficoltà sicuramente minori e quindi rifare più o meno le piste che abbiamo rifatto l'anno scorso sicuramente vorrei affrontare con un po' più di grinta, diciamo, la stagione prossima e dai vedremo perché comunque ci sono tutte le buone premesse perché è stata un'esperienza in crescendo, abbiamo fatto tanta esperienza, i tecnici della Kessel sono stati molto bravi, mi hanno aiutato a capire un po' come gestire potenza, gomme, sono una serie di cose che chi non ha mai usato questo tipo di auto, insomma, il primo anno l'impatto è notevole e quindi sicuramente il prossimo anno le difficoltà saranno sicuramente minori, quindi mi auguro di fare un pochino meglio, insomma, comunque sono contento, quest'anno come è andata sono contentissimo. Un'ultima domanda, tu credi molto all'evento Motor Show e infatti in un certo senso ci stai partecipando in maniera attiva sia con la presenza della tua vettura ma anche avendo corso la gara del GT Cup? Sì, credo nel Motor Show di Bologna perché ci sono due modi per poter pubblicizzare meglio i nostri partner, sappiamo che il Motor Show di Bologna ha un bel movimento di pubblico e la possibilità di farlo in questo modo, esponendo la macchina in uno stand e inoltre gareggiare la famosa gara del Motor Show di Bologna che tra l'altro è un mito, gare che vedevamo da quando eravamo piccoli, quindi ritrovarmi nell'area 48 e correre io con una Ferrari comunque è stato un sogno realizzato e quindi è bello così perché ci sono due modi per poter fare pubblicità fatta bene, il Motor Show di Bologna è uno di quelli. Bene, allora ringraziamo Roberto, ovviamente ti facciamo il nostro in bocca al lupo per la prossima stagione, che sia GT Sprint, che sia un'altra categoria, a maggior ragione se rimarrai con un team che ci è sembrato assolutamente che ti abbia soddisfatto e magari fra un anno ci rivediamo a raccontare un'esperienza ulteriore migliore di quella di quest'anno. Ce l'auguriamo tutti, grazie, buonasera.